E' uno che, se ragionaste, viene, fa una conferenza stampa e dice se gli tira qualcosa di traverso, se gli gira, se non gli gira, se voleva andare volentieri, se vuole onorare il ricchissimo contratto che ha col Bologna. Ma perché non si parla al mondo che fra poco crepiamo tutti? O no? O no? Io sono d'accordo su questo, la voce ce l'hanno anche i calciatori e se volessero... Questi che parlano sempre così, ma... I messaggi critici... Dei poveri coglioni sono... Servono perché poi stiamo ore e ore a parlarne e soprattutto io... Ma ho una mia impressione che Diamante si stia molto divertendo nel vedere tutti questi che si interrogano... Se ne parliamo noi, se era per me, se ne parlava poco. Vediamo a casa, se ne parlano...